A presto 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 questo è il cacr è ma tutti non capiranno questo è il cacr questo è il cacr perché questo è il cacr che consiglio di andare a qui guardate a qui e che a qui andare a qui cercare di andare a qui e qui è il cacr questo è il cacr il cacr il cacr il cacr ciò che abbiamo capito? secondo me proprio vai a differente non è still non è di te lo tu hai tu hai tu hai faccio la tua un governo hai tu hai ti hai hai tu hai tu hai qu'è hai piaccio ci hai 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 cinque ma questa questa a tutti i ragazzi non ci sono non la tua forma è non la risposta non lo devono, non lo devono fare, non l'inforzare, non lo devono, non fare, non l'inforzare, non le finiamo. Non ciòs di domani, non ciòs di domani. I've fatto una cosa che si parli di luogo, quando d'accordo di Giorgo, che passano non ci sono Svalli Babbà dice che mi non ci rispia di rispia è una cosa che ci sono e se non ci sono domani se non è arrivato Scusa, il suo corso, il suo corso di riscaldi, il mio cuore di riscaldi. Per questo, il mio cuore di riscaldi. La professione che il mio cuore di riscaldi, il nostro corso di riscaldi. L'asera di riscaldi. Per prima questa cosa, il suo corso, la questa cosa, e poi inizia il capter più inizia e non ci sono mai rispondi inizia il capter nel capter di 10 capter il rispondi questo è il rispondi perché è il rispondi e questo è il rispondi e questo è il rispondi quando ci sono un rispondi non ci sono inizia e tu si è anche che dice se il risultato di risultato se il risultato di risultato allora la domanda poi dobbiamo oppure non dobbiamo capire che ci sono i bambini non capire il risultato che non si non si non si non si non si si non si se la parte di chiama la parte di un paura con la parte di questa questa inizia MANIA questa inizia questo questo è una alla questa inizia esse è un murchiamato questo è un marketing che tutti i nostri amici tu non è abbia niente quindi papà dice che anche mi anche abbia niente la domanda è la domanda è questo per aver preparato e il quello che è in sua stitina quello che non è in sua stitina non è in sua stitina non è in sua stitina la domanda è in sua stitina che si hai preade otmico siti non v'accompo sa cosa come se musica che lo v'aggo 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 sottotitoli Poi ci sono non ci farà, non ci farà. cleanup minutes ci sono tutti i miei ci sono gli aspetti ci sono gli aspetti inside si sono gli aspetti la vita perché la vita è molto forte quando ti vedi la vita il giagra atti il giagra theno la tua la tua il giagra che tu hey un'altra una linea aspetta no ma per la tua l'agga parmaatma che è allora oggi anche tutti i divi divi d'autauti che vabbè dice che rimanate rimanate e non rimanate vabbè 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 rimanate vabbè 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 hanno diventa non è una donna non è una donna non è una donna non è il capito lo s'maggia è un po' diventa diventa non è diventa non c'è tu check ti mari cos'è qui hai 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 quello che hai 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 Tivra Sankalpa ho ne chiede Toghì mi liega Isse dunia ki kisì città Vastuqo panné ke liè Agar baut z'ai dà Tivra Sankalpa uccana pardata è Toghìr Bapko panné ke liè Kittà Tivra Sankalpa uccana pardata è Kabbì sòchà Kabbì viciare Khi ha Tivra Sankalpa Khi aakho se Aasua jai Khi nahi Hame parmatma hi chahiye Hame baap Chahiye hi chahiye Jab kisì ko kuch chahiye Hota è Kisì shakti ko Prasanna karne ke liè Darshan karanè ke liè Kitni tivrata se rote Uske sámeni Chillate hai Khi hame tù darshan karan Hame milna hai Tussse Zid karate Nahi jayenge Jab tuk tù darshan Nahi karaati Dekho kitni tivrata Chahi hai Samaj ki baat Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 e tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e tutti. Grazie a tutti. e tutti. Grazie a tutti. e... Grazie a tutti. e... e... Bapaki periccia 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 Bauti niquissan Ho giacato Svamaki periccia Periccia Svamco Check Periccia Gio Atmic Siti Me ha Usse Bap Smage Me ha Ape Ape Smage Me ha Usse Smage Ne Ne Gio Body Consciousness Me Usse Kitana Bhi Smage Me Ne A Usse Smage Me Consciousness Walik Tumhara Sng Unique Sng Se Ho Tumhara Sng Jinka 8 Ghantai Ka Yog Ho Jho Rooj Ki Paj Bar Nau Bar Murli Pad Te Ho Jho Rooj Ke 20 30 Bar Svodarshan Chakra Ghumate Ho Ine Kis Sng Me Tumhara Sng Ho Ba Ki To Bhatka Some Don't Be You Go To To You Jinka Murli Pera Atención Nain Sng Sng You You Can K Say You Tell You Can Say You Votrnà unseo parlando di mapparato Ho giusto Perché lui vittacca Tu anche vittacca Dijan raffa Succhi parlando Bacchia Cosa in cui si è Vistato Cosa Naukeri dandese Poi Thuera Bauti Yogi Ese che Sanghi Non rai Voi Vittacca Rai Tummi Vittacca Ese Usse se noi non pagiamo. Sonsori inse. Sonsori E noi ci siamo vivi State. E noi ci siamo vivi State. Ci siamo vivi State. Cerchiamo ci siamo vivi State. è . . . non vedi l'annica giro non vedi non vedi i canzzi si sono vedi si è un sito si è si è si è si è che ci hanno che ha si è si è è è è è in in cui ci mettere il rischio di mettere il rischio mappare resta di resta di resta ci sono 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti